Scendino Dov'è? C'è uno scheletro che sta bruciando qua fuori Muori anima dannata di farinata degli Umberti Ok Qua ci ho messo una cosa Una che cosa? Una cesta scusa Quella è per gli effetti personali tuoi Simo? No ho messo in generale Ah non c'è stanno i Tampax dentro No non c'è stanno i Tampax dentro Però c'è stanno i guanti Ah è sempre col guanto mi raccomando Anche voi amici a casa Sempre con il guanto Mi raccomando il guanto è adesso Non fate come noi 5 Non sembra pure accadevissimo se sono una persona di Dio Dai dai bastano dai che devono abbastare Com'è no? Stick 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 Ah ok Stick 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 E vai Vediamo se funzia Beh Perché non collabora? Oh Stava collaborando Perfetto Alla grande Vediamo se lo fa a tutti Sì Vediamo di qua A tutti Meraviglioso Meraviglioso Chiudiamo qui perché è antiestetico Velocizziamo A me sembra velocizzato Ok Generatore di diamanti ok Eeeh Va Mamma mia E forna mia Belli Mettiamo Una torcia E' un paio di torcia Olè Andiamo 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 a vedere se funziona Perfetto Certiamo l'oro Voilà Si vede un cazzo Ok Meglio non vederlo Eh Non c'è tutti storti E' il pollo E' il pollo Ok Eh ci si può chiudere Sta buca qua davanti Quale buca? Quella dalla lava Eh oh cacchio Si aspetta Non è perché Cattivei Ma Sai com'è Ah oh Ah oh Ah oh Non vi ho più Qui mi sa che te sei sbagliato Con la Con la filosofa No Non lo faccio io Quella Voilà ma what the fuck e vai bene 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 cosa facciamo adesso tutto bene sentito un stock ma sì ma io ogni tanto che carina sta casetta bella bella mi piace mi piace ho detto che è carina questa casetta ah guarda c'è un disturbo tipo di cristo spero che si senta cioè che io si mi senta mi senta insomma mi senti che quella che mette a posto l'inventario gli da problemi la divina qua dimmi quando è fatto che andiamo giù a scavare un pochino che ci serve qualche diamante se sto a chiudere qua che sei il padrone che qua è tipo il generatore di creeper no no sei il mio è una bella casa è una bella casa dunque ci serve del carco del coal a questo punto invece di di farcelo direi di lasciare a casa le cose che non ci sono prendere un po' di cobblestone ridorci delle ceste questo l'armatura ginocchiere perfetto che sta facendo sta fando sta fando sta fando io vado giù in miniera vai metti poi il cancelletto io farò che a me è pesato mazza stai a fare cose le fence basta che metti un cubo di legno al centro due cubi di legno stick legno stick stick legno stick ah ma già c'erano che perla ci stanno le fence che sto pesando no considera che mi sto tipo a sentirti male sta arrivando un odore pazzesco di pollo e mamma mia quanto è buono so che non è molto inerente al gioco ah tra l'altro ho finito le le fence quindi vuole fare dopo bambi di legno Buongiorno a tutti. Diamanti. Davvero? Quanti? Solo due. Beh meglio di nulla dai. Possiamo dunciarli? Sì sì sì. Volevo farne un pochino perché così faccio l'energy collector. Su quella volta sono molto combattuto. Perché certe volte rende davvero troppo facile. Però se c'è l'equivalent exchange quella che è. Cioè la transmutation table è figa perché c'hai un bot di cobblestone che non ci fai niente. La vendi. Stai a pace. Però certe volte non lo so. Forse perché c'è stanno così tanti materiali che scendo ogni volta in miniera quando te manca un pezzo d'oro. Diventa. Sì infatti dovrebbe. Sarebbe un po' frustrante. Bene a pace. Bella te so. C'è una diminuzione dove il caso. Certamente tieni. Divertiti. Grazie. Grazie. Esatto qui. Mi sono andato collegato al list. Mhm. Sì ma vogliamo andare allo spawnport. Se vuoi fare il coso. Il coso. L'enchant and table per farci le armi incantate. Sì. Facciamo la mob trap. Allora. Già sono pieno. Già sono pieno. Questa pienezza mi suggerisce che dovrei fare. Porco giudato. Sì. Uno due tre tre. Ce l'hai due diamanti? No perché? Cioè sì perché? Eh perché ci faccio con cento in table. Vabbè non la fai adesso. Facciamola quando andiamo là. Mo scaviamo. Comunque questa piccozza non ci posso scavare. No? Tieni. Ti do il diamante. No. Ah no niente niente ma solo la gara adesso. Ah ok. Allora dammene una. E sta qua quella di. Questa è la gara. Sta alla gara? No. Sta alla gara? Sì. Sì. Allora. diamanti di nuovo. Sto praticamente al piano sotto il tuo. Che quando cercavo i diamanti ho trovato. Come si dice ho fatto. ho lasciato indietro delle cose. Ah no io sto al piano 2. Tu dove stai? A che altezza? Anche a te lì. Eccolo qua. Se sto dietro. Arrivi. Eccomi. Dunque dunque dunque. Scavi tu qua? Ma sì. Tusteno. Tusteno. Ma non mi sto a prenderla. Ma questo dove di pollo. Oh dei pollo. Ce l'hai torce? Quattro. Beh quattro sono buone. Cioè fai la colla. Guarda tutti i cazzo. Vediamo se posso aiutarti. Guarda che. Se non puoi va bene così non è un problema. Cioè le metto poi le tolgo. Poi vado a piedi e fanno bene come. C'è molto più... Te prendo le sfumole. Sì però non le puoi mettere e levare. Perché se quando riscendiamo qua giù troviamo all'ira di Dio. Vabbè dico queste quattro mie. Aspetta. Vieni qua. Fermo. Fermo. Dove sei? Fermo. Andi. Sei uscito. No. Sei uscito. No. E il gioco non mente. Cazzo. Bella. Dov'hai io? No bella nel senso da paura. Sei uscito. Niente. La famo così. Sì. Alta F4. Non devi dare un problema. Prendiamo tutto il tin. Ho già cinque ore che ci parliamo. Ah faccio. Tanto cinque tonde tonde. Continuarne. A voglia. Vabbè ti lascio 64 torce dentro la cesta. Così quando rientri li trovi. Va bene? Io qui finisco di prelevare il prelevabile. Ma poi per i dati la lentina del video sono andati proprio persi. Come? Sono proprio andati persi i dati la lentina del video. Quali video? Ah sì sì la devo di rifare. No più che altro con l'altro computer che è un vecchio portatile Adobe tipo LNTR. Metà che la tua connessione è lenta te so. C'è poca ricezione. La mia connessione? Sì perché mi dà il sed basso. Non credo che posso farci niente su questo. Prendiamo tutte le cose. Le torce stanno qui dentro. Sì sì. Ora ti faccio un alchemic bag. Poi dobbiamo andare a fare la spedizione punitiva nel nether. Eh ma andiamoci a tipo mo'. Eh ma non ho visto ad occhio fortezze. Mi sa che tocca andarci con gli anelli del volo. Anelli del volo com'è che si chiamano? Si chiamano Wolf Blah Blah Gamel. Si chiamano Swift Wolf's Rending Gale. Bene. Bene. Ah bene. So quelli con i Dark Matter. Eh apposta. Di Max. Si no? Continuiamo a cadere in due a mezzo. Scava scava. Best found one. Ma vuoi la dextraction? Se poco lo convince. Vieni su un attimo a prendere la ciccione. Oh io c'ho fame fame fame. Mangiavo una bistocca. Ma pensavo io manco di. Abbiamo preso sette diamanti di. Qui ce ne abbiamo due. Giusti giusti. Non vogliamo. Spregarli tutti. Ne bruciamo un po' di Nicolaite. La riempiamo con questo. E poi prendiamo. Decimo diamante. Poi. Un diamond block. Lascia stacco ai poveri. Ranghi. C'è l'altro. È tutto il pezzo. Io ho lasciato. Ho messo la porta. Ho lasciato. Vuoto lì. Perché non so se poi ce l'ho fatto. M'hai dato. Allora ti do la destruction. Stai attento. Sì chiaramente. E poi ti do la green star con 20.000. Stai attento. Metti torce dappertutto. Se no lì dentro diventa un mob spawner gigante. E esplodiamo. Dove l'hai messo lì dentro? Lo vedo. Non l'ho più fermato. Eccolo qua. Energy collector. Allora. Dove lo mettiamo l'energy collector? Qua sopra? Sì. Mettelo sopra. Quella là è la stanza che ho fatto apposta. Dell'energy collector. Energy condenser. Mettere lei. Energy collector. Oddio. Se potrebbe pure mettere. 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 Mettere qui. Io me lo vado a divertire in Molise. Vai Molise. Vai Molise. Ok. Scendiamo. Però non hai messo una scala che accede al tetto. Ah perché non credevo che ci fosse bisogno che necessitasse di una cassa al tetto proprio. Eh ci devo mettere i cosi di glowstone. Vabbè la faccio io. Le cose di glowstone non producono energia di suo. Sì però di notte non li producono. Quindi tu metti il coso di glowstone e lo vado a dare. Eh quindi lasciaci direttamente la glowstone e lasciatelo dentro. Non ho capito. Le passo su una dita. Sono sceso giù. Sì. Ok. Tu stavi parlando. Io ho iniziato a impregare perché appena sono sceso c'erano 14 creeper e 12 scheletri. E non si sa che ha. Una cosa sbagliata. E tutte le cose che dicevo tu credevi. Hai creduto che fosse risposta invece no. È una spiegazione. Se stai impregando ci sarà un perché. Vai fa. Vai fa. Vai fa. C'è troppa poca luce. Va fa. Use the torch. Lyok. Am your father. Ho sbagliato. Lo mettiamo. Qui. Voilà. Certo è un po' lontanino però dopo ci mettiamo un filter che lo manda qua giù. Poi 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 poi. Visto che ci abbiamo tanto di questa. E qui non mi buca. Sta a zero. No. Ho aggregato. Cioè è carica scusa. Sì è carica. Non saprei. Ma me sa che mi sto laggando tantissimo. Ma a me non è cambiato molto da prima. iscriviti. le no. 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 Te gridavo. Si. Grazie a tutti.